persone a 67 anni quando abbiamo milioni di giovani disoccupati. Se vi piace un governo che compra e caccia bombardieri, che toglie l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, se vi piace un governo che taglia la spesa per la sanità, per l'istruzione e trova i miliardi per il Monte dei Paschi di Siena, allora votate o Crucetta o Musumeci, decidete voi, ma se invece questo governo non vi piace, votate Giovanna Marano, che è un modo per dirgli che ci hanno rotto le scatole con questi governi che prendono i poveri per dare ai ricchi, perché non è questo che deve fare un governo che rispetti la Costituzione.